Sdraiatevi e copritevi gli occhi con un fazzoletto se necessario. Iniziate con la respirazione e la visualizzazione, finché non siete rilassati e calmi. Rivolgete il vostro corpo verso la terra. Sdraiatevi se potete. Sentite il movimento del terreno. Il lento processo all'interno delle rocce. I movimenti mutevoli di esseri che vivono nella terra. Sdraiatevi se potete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando vi sentite parte integrante di questo elemento, invocate lo spirito della terra. Osservate chi vi si presenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiedete allo spirito elementale della terra di mostrarvi il suo regno e state a guardare. Grazie a tutti. Udite se questo elementale ha qualche lezione per voi. qualche consiglio, qualche consiglio, qualche consiglio o qualche missione da assegnarvi. Grazie a tutti. 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 Quando avete finito, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.